Le Marche sono la seconda regione in Italia per percentuale di popolazione con ciclo vaccinale completato, con il 17,5%, al di sopra della media nazionale segue solo la Liguria con il 19,2%. È quanto reso noto dalla Fondazione Gimbe, l'organizzazione non a scopo di lucro, che da gennaio effettua un monitoraggio indipendente della campagna vaccinale sulla base dei dati ufficiali del Ministero della Salute. Dalla ricerca però è emerso anche che le Marche sono quindicesime tra le regioni e le province autonome per quanto riguarda il computo totale di popolazione vaccinata, che è pari al 32,8%. Nella Regione, per la settimana che va dal 12 al 18 maggio, si conferma un miglioramento sui casi positivi per 100.000 abitanti e una diminuzione di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Marche sotto soglia di saturazione di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica al 19%, e terapia intensiva al 22%. Invece, per i vaccini agli over 80, la percentuale del 91,5%, di cui con ciclo completato al 67% e con la prima dose al 24,5%. Nella fascia d'età, 70-79 anni, la Regione vanta un 83,7%, ha completato il ciclo vaccinale al 34,8%, a cui si aggiunge un'ulteriore 48,9% con la prima dose. Infine, le vaccinazioni della popolazione tra i 60 e i 69 anni, ha superato il 53%. Alle ore 19 di ieri, dopo l'apertura delle prenotazioni per i 40-49 anni, sono state circa 52.000 le persone che hanno aderito alla campagna vaccinale. Nei prossimi giorni partiranno le somministrazioni, nei vari punti già individuati, sull'intero territorio.